Ciao tesori, bentornati a Paperissima, lo vedete già dalla scenografia, cioè dal divano, dalle nostre due veline, dai pack surprise che abbondano, da una cosina carina da vedere e dalla nostra Lollina, ma c'è anche Chiara e Pollina oggi, eh sì! Chiara! Ciao Barbara! Eh, conosci Paperissima LOL? Eh, no, non l'hai sentita. Ma come? È divertentissimo! Eh, ho capito, ma non l'ho mai sentita, io sono uscita da poco dalla lacca. Eh, hai ragione, può venire là dentro quel barattolo, poi le viene dall'America. Eh, ho capito. In pratica, Paperissima LOL è un contenitore. Ah, un contenitore come quello delle LOL? No, è un contenitore di contenuti. Ah, cioè, che vuol dire? Significa che facciamo vedere un po' degli errori di Barbara. Grazie, eh. Prego, prego, non c'è di che. Poi facciamo vedere in genere a volte qualcosina, qualche piccolo unboxing, qualche novità. Oh, che bello! E poi, i pack che ci mandano i bimbi. Oh, che bello, che bello, mi piace. Chi ci rimanda? I tipitini. Cioè, sono i bambini che seguono il canale? Sì, esatto. Quelli che si sono iscritti? Non solo. E come si fa a iscriversi? Beh, bisogna cliccare sul tasto Iscriviti. E poi spuntare la campanella. Che significa? C'è una campanella quando ti scrivi. Eh, tu ci clicchi sopra e dici, ok, dammi le notifiche. E quindi? E quindi poi dopo il telefono o il tablet ti avvisano quando esce un nuovo bellissimo video di Barbara e Lara. Bello, lo vado a fare. Ecco, brava. Fatto. Ok. Ragazzi, avete finito? Sì. Possiamo cominciare? Eh, che fai? Una volta tanto? Fai tu fretta a me? Sì, Lollina. Faccio fretta a te. Tu dici che ci sono soltanto i miei errori e quindi io ti faccio fretta. Però è vero che ci sono soltanto i tuoi errori. Dimmi quando sbaglio io. Hai ragione, Lollina. Non sbagli spesso tu. Devo dire la verità. Ecco, appunto. Quindi direi di cominciare con la sigla e poi con le vostre papere. Ok, ragazzi. Sigla. Che bella, che bella quella musichetta. Che bella come ballano bene le ragazze lì. Sì, hai visto che brave che sono. Sì, posso ballare anch'io? È finito. Eh no, volevo continuare. Adesso ci sono le papere. Eccomi, dove si vedono? Qui, nello schermo. Papere! Vieni! Ma sarò io... C'è un ragno. C'è un ragno. Ragnetto, perché sei nella casetta? Dai, vieni su. Sali sul mio dito. Ragno, dai, ti devi togliere dalla storia. Ragnetto. Andiamo. Ok, ti metto fuori, eh. Dai, andiamo fuori dalla finestra. Ciao, Ragnetto. Bene, io comincerò con questi raviolini. Perché come antipasto mi sembrano proprio indicati. Io presenterò un... 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 Riprova! Ce la puoi fare! Un... Dai! Un coso di cosi a forma di formaggio. Un formaggio. Ok. Ora tocca al primo. Farò il mio campo di cavallo. Ok, adesso che avete smesso di ridere? Eh, ma era buffo. Ok. Adesso sapete cosa facciamo? L'unboxing. Cioè? L'apri-apri. Ah, unboxing è in inglese? Esatto. La traduzione della parola unboxing è apri-apri. Ah, ok. Detto anche apri-apri-apri. Ah. Oh, apri-apri-apri-apri-apri-apri in base. Più è una cosa bellissima e più apri ci vogliono. Ho capito. E quindi quando avete aperto me... Eeeh! Milioni di apri-apri! Allora, vi metto qui così guardate anche voi. E oggi andiamo a scartare questo My Little Pony. Si chiama Cherry Lee. Ed è decisamente super sexy. Vediamo un po'. Allora. Vediamo se è in scocciato. È legato. Ok. È stato abbastanza semplice. Guardiamo dietro. Qua si vede qualcosina della scuola. C'è anche una mela. Alice direbbe che c'è una mela. E adesso ce lo guardiamo nello specifico. Gli liberiamo i capelli perché sono stati... No. Come si toglie? Ma non lo so. Ma perché fanno queste cose? L'hanno... Devo prendere una forbice? Speriamo di riuscirci. Ce l'ho fatta con la forbice. Praticamente la plastica era cucita. Qui c'è un altro elasticetto. Togliamo anche lui. Ed ecco la nostra Cherry. Guardate che faccina buffa che ha. Vediamo il suo cutie mark. Che sono dei fiorellini contenti. Dei fiorellini felici. Come c'è la gambetta felice di Rollina. Lei invece ha i fiorellini contenti. Vediamo... Vediamo... Che c'è in questo pol... Una bolla, ragazzi. Una bolla, una pallina, LOL. Da Maria Vittoria. Poi c'è anche un bigliettino. Da Maria Vittoria. E ho un'altra cartina, LOL. E tante patatine di polistirolo. Allora, vediamo qua. Chi ci scrive? Allora, prima di tutto ho scartato questo. Lollina, è per te. Arrivo! Eh, cos'è? Guarda che ti ha preparato. Cos'è, 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 cos'è? Eh, un... Un portatile? Sì, guarda che meraviglia questo computer. L'ha fatto troppo bene. Oh, grazie. Mi serviva. Adesso, quasi quasi, visto che... Devi ordinare qualcosa. E devi ordinare tu? No, 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 niente. Mi documento. Ah, ti documenti. Mmm, fa un po' paura. Poi qui c'è questa letterina che dice... Eh, ciao Barbara e ciao Lara. Mi chiamo Maria Vittoria. Vi seguo da molto. Mi piace molto il vostro canale. Vorrei tanto essere amica di Lara. Guarda, Lara è amica di tutte voi. Perché veramente, in questi giorni... Ora che siamo stati, oggi come giocare, ha giocato ai tavolini con gli altri bambini. È come se si conoscessero da mille anni. È una bambina dolce e simpatica. Purtroppo è quasi impossibile perché io vivo a Modena. E chissà, non lo sappiamo. Io andiamo a sognare ad aprire la tua pallina. Allora, vediamo un po'. Allora, tirate la cordicella. E invece qui che c'è? Aspetta un attimo che... Devo aprire gli sport... Cosa c'è? Ah, qui ci sono dei cartuffini. C'è un pacchettino. Siete curiosi, eh, quando apro queste cose. Cos'è? Un braccialetto. E invece qui c'è... Aspettate che non riesco. Un'altra bustina. Cos'è? Un vestito. Una stoffì. Una borsetta. Una borsetta LOL fatta da lei. Ma è bellissima. Lollina, lasciala. Lolli... Ecco, niente. Si è presa pure questo. Poi vediamo che altro c'è. Facciamo così. Stacchiamo tutto. Così. Qui tirate la cordicella. E qui vedo un'altra cosa. Oh, brillantini, strass. E un tatuaggino delle confetti pop. Bene, tiriamo la cordicella. Oh, il pop. Eccolo qui. Qui c'è una scatolina con scritto Fashion Beauty. E delle cosine per fashion. Ha fatto i trucchi. Che cosa bellissima. Sei bravissima. Ha fatto i rossetti. Ha fatto delle creazioni sue. E poi ho visto volare qualcosa. Oh, un My Little Pony. Ma vedi, neanche appa... C'eri lì? Sì, guarda. Oh, che carino. Hai visto? Abbiamo scattato un pony e dalla pallina è uscito un pony. Pazzesco. Grazie, Maria Vittoria. Bellissimo il tuo pacchetto. Wow. Guardate questo che bello. LOL Pack Surprise. Lo voglio aprire subito per farvelo vedere. È decoratissimo. Non è meraviglioso? Guardate, addirittura ci sono dei messaggi da leggere con Life Spy. È stata in grado di farlo. Qui c'è scritto Surprise e qui invece c'è scritto What's Inside? Vi aspettano le Surprise. Ma è stupendo. Qui c'è una cosa scritta dietro. Usate le lenti di ingrandimento. Che bella questa scatola. Adesso la apriamo e vediamo che c'è dentro. Tanti foglietti. Tanti, tantissimi regalini. Tutta questa fantasia dorata viene da qui. Da Anna che ha otto anni. È nata il 9 maggio 2010. Penso a Lara è nata l'8 maggio 2009. Vede un anno e un giorno di differenza. Allora, ci ha scritto un sacco di cose carine. Carina adora zuccherina. Dice che siamo fantastiche. 2,70. Tutte le nostre siglette. Ha messo qui fashion. E ci ha fatto anche parte di un sacco di regalini. Una ghianda. E tante altre cose. ma delle domande. Allora, volevo chiedervi se facevate la favola del mago di Oz. Molto volentieri la faremo presto. Poi, per Lara. Guardate che carina questa Alice. Qual è la tua LOL preferito? Qual è il tuo pet preferito? Cosa ne pensi del tuo canale? Cosa ne pensi di Lara? Allora, il mio pet preferito è Pollina. La mia LOL è Lollina sicuramente. E anche Alice è quasi a pari merito. E cosa ne penso il mio canale? Il mio canale è il mio riscatto. È la mia soddisfazione. È la mia motivazione. Non lo so. È il mio orgoglio. Cosa ne pensi di Lara? Lara è la mia vita. Lara e Lelle sono i miei tesori. La mia vita insieme a Demi e quindi hai fatto delle belle domande. E questi sono un sacco di... Poi ci sono tutti i quadretti, le cosine che ci ha fatto la sua ghianda e tanti altri regalini. Grazie Anna hai fatto un pacchetto bellissimo. Questo è il pack surprise di Morgana. Lo sto strappando qua. Uh, ma sono sorprese su sorprese. Guardate, dopo la carta ci sono tutte le decorazioni. È bellissimo. Oh, ma quanto è pieno. Ecco il contenuto. Guardate che bei regalini. C'è un mobiletto, una piccola madia, un lettino, una limetta per le unghie in forma di gatto, ciambella, zuccherato e tante altre cosine bellissime. E poi vi dico, vi faccio scorrere tutti i disegni che ci ha fatto Morgana mentre vi dico che ha sette anni. Qui ci sono i nomi di tante LOL. Poi qui c'è un punk boy bellissimo. Poi qua c'è una cosa molto bella che mi ha scritto. Quando spieghi qualcosa sei bravissimo perché sai esprimere. Ti sai esprimere e si capisce bene quello che dici. Ti voglio bene. Grazie. Allora, qui, Pollina. Dove sta? Era qui, Pollina. Dove è andata a finire? Eccola. Pollina, c'è una cosa per te. Oh, posso volare? Volo, volo, volo. So volare, so volare. sì perché il foglio è sul tavolo. Ah, e allora era solo il disegno? Vabbè, saltello, ma sogno di volare. Grazie Morgana. Mi ha fatto contentissima. Questa è Morgana, così la conoscete. Eccola qui. Poi ci sta Lara. Guardate come l'ha fatta uguale col cerchettino unicorno. Poi ci sta... Questa la conoscete? Sì, sono io. Poi c'è Lollina e qui c'è una scenetta nostra con appunto Alice che sbuca, Lollina tecnicamente, mi dovete mangiare. E mia occhia ovviamente cerca di farsi togliere il collare. E questa è Alice. È bellissimo il tuo pacchetto. Grazie Morgana. So che tocca. Che cosa c'è qua? Ma vedete che cosa bellissima. Questa è una scatola delle scarpe marca Barbara e c'è il fiorellino. Non ci credo. Sembra... No, bellissimo. Cioè, fantastico. Cioè, esiste una marca di scarpe Barbara col fiore. È diverso il fiore, però fa strano. Allora, Pac Surprise, Lelol by Babu, Lara, Lele. Ok, vediamo un po' qui che c'è. Tanti, tanti fogli. e cose con lo scotch. Ecco tutto aperto. Ci sono delle figurine dei miei contro te, una bella gommina. Allora, non c'è scritto nella letterina il nome, ma sulla scatola c'è scritto Rebecca. Quindi penso che tu ti chiami Rebecca a meno che non sia il nome della tua mamma. Comunque, io adesso faccio scorrere i tuoi disegni e ti faccio vedere tutte le cose che ci hai preparato. Allora, Rebecca, diciamo, chiami così, ha nove anni. Guardate che carina questa Alice. Ci ha stampato anche il maggioretto. Poi ci ha scritto tutte quante le sue LOL del cuore. Qui ci sono, c'è una vignetta troppo carina con LOLina e Alice. Ho trovato delle mele. Qui ci siamo noi, che bello, con un arcobolino meraviglioso. Lara, Barbara e Lele. Che bello. E per Lele c'è anche questo Pikachu da colorare, sarà contentissimo. E questo bellissimo cuore pieno di cuoricini con scritto Pokémon wow. E viva i Pokémon. Che bello quando siete fan dei Pokémon anche voi. Una piccolina e poi il fiorellino di Babu. Grazie Rebecca, era un pack surprise veramente bellissimo. Ce la fai, dai, ce la fai. i piccoli voletti, hai visto che hanno fatto i disegni in cui voli. È ora di provare. Magari a primavera. Provaci. Dai, è andata bene. Ho volato, ho volato, ho volato, ho volato, un pochino. Diciamo di sì, dai. Diciamo che era un voletto. Hashtag voletto. Ok. Ragazzi, vi siete divertiti? Se vi siete divertiti a vedere i nostri pack surprise, iscrivetevi al canale e ditelo ai vostri amici. Condividete, spammate il nostro video sui social e se siete tra quelli che erano stati letti nel pack, nei quelli di la puntata di oggi, scrivetelo nei commenti così vi diciamo che siete stati bravissimi. Se siete nuovi iscritti, ricordatevelo, scrivetelo sempre perché vi darò il benvenuto. Io se riesco a leggerlo ma in genere la sera me li leggo quasi tutti e vi daranno il benvenuto anche i tipitini. Di recente ho visto un commento di un nuovo arrivato con 102 messaggi sotto. Siete dei grandi, siete meravigliosi. Questo è veramente un team di amici veri. Sono felicissima per questa cosa grazie di quando date il benvenuto a dei nuovi iscritti e dei nuovi amici. Ragazzi, qua ci sono già i pack surprise per la prossima puntata ma questa finisce qui. Quindi al centro al fiorino di Babu iscrivetevi qui intorno ai video da vedere dopo. Buon divertimento sul canale e ci vediamo prestissimo. Un bacio a tutti quanti. Ciao ciao!